buongiorno a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi pulizia approfondita del bagno ora vi faccio vedere in che stato è il mio bagno così vi rendete conto dopodiché partiamo con la pulizia allora non vi spaventate ma lo stato attuale del nostro bagno è questo imbarazzante allora devo tra l'altro rimettere la panca sotto il lavandino quindi qui ho tutte le varie cosine da sistemare al suo interno cambio asciugamani lavaggio lavandini e polvere insomma un po tutte le cose che bisogna fare quando un bagno è al limite della decenza dai partiamo con queste pulizie forza a 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 eccoci qua bagno perfettamente pulito pulizia profonda perché ho fatto praticamente tutto quello che c'è da fare per pulire al meglio il bagno faccio vedere un pochino anche le mensole dovrei poi organizzarmi per lavare tutte le tende ma questo farò poi in un secondo momento ripiani ripiani sistemati e puliti idem i lavandini e sotto con grande orgoglio vi mostro la mia banca che adoro e trovo che bianca ci sia molto molto meglio rispetto a prima perché perché comunque riprende i colori del bagno quel colore legno che c'era prima no non ci azzecava proprio e quindi questo è il mio bagno pulito in in tutte le sue parti io vi ringrazio per aver seguito il mio video se vi è piaciuto come al solito lasciate un like e ci vediamo al prossimo video buona pulizia a tutti ciao 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 ciao